I teatri hanno vissuto un periodo buio a causa della pandemia, ma piano piano si stanno ripopolando e tornando a pieno regime. Ai microfoni di Ultima Bozza, Franco La Sacra, attore e fondatore del Teatro dell'Albero di San Lorenzo Amare in Liguria, a cui do il benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Come dicevo, il teatro ha vissuto un periodo molto particolare, ma adesso è in fase di ripresa. Come sta andando? Ma sta andando molto bene, direi, perché comunque c'era voglia di ritorno al teatro. Il pubblico aspettava, anche se noi, devo dire la verità, non ci siamo mai fermati. Quest'anno stiamo festeggiando i nostri 20 anni di attività e quindi stiamo andando alla grande perché abbiamo messo in campo parecchi eventi che si stanno svolgendo in questi giorni e si sono già svolti nella primavera scorsa. Quindi direi che l'esito è assolutamente positivo. Ecco, come stava dicendo, quest'anno, il 2023, è un anno molto particolare per il vostro teatro perché si celebra il ventennale. Com'è andata la prima metà dell'anno e quali le prospettive per l'autunno-inverno? Ecco, volevo dire che comunque durante il periodo pandemico noi non ci siamo fermati perché siamo riusciti, anche con tutte le restrizioni, a non abbandonare la nostra attività ma nel continuare a farla anche all'aperto. San Lorenzo al Mare è una località in provincia di Imperia, con un clima mite e quindi si presta anche per eventi all'aperto. Quindi volevo premettere che non ci siamo mai fermati, anche se poi chiaramente il pubblico era quello che era perché c'è chi osava, chi invece aveva paura e quindi chiaramente non abbiamo avuto quella affluenza che abbiamo di solito. Stiamo andando alla grande perché abbiamo appena terminato la nostra ventesima rassegna teatrale, una rassegna di prosa a livello nazionale che vede la partecipazione dei più grandi attori del panorama nazionale. Attori di prosa che probabilmente alcuni sono conosciuti perché fanno cinema e televisione, altri fanno solo teatro ma sono veramente dei grandi, tanto per fare dei nomi, Ascanio Celestini, Maria Paiato, Roberto Erlizka, Ulgerico Pesce, Lucrezia Lante della Rovere, Milena Vucotic, attori che sono Ottavia Piccolo, che sono tutti passati sul piccolo palcoscenico del nostro teatro. Se vi interessa vi do anche due informazioni sul come è nato perché è una storia molto molto curiosa. Volentieri. Sì. Allora, il teatro dell'albero perché innanzitutto? Perché sul palcoscenico c'è un albero vero, un ficus nitida retusa, che è stato piantato apposta perché il comune di San Lorenzo al Mare nel 1998 è stato alluvionato, ha subito veramente dei gravi danni ed è andato interamente distrutto. Il sindaco di allora, un sindaco amante della cultura, decise di ricostruire il paese e comunque in questa ricostruzione volle creare in seno al palazzo comunale questo spazio, proprio come un agora, un luogo di ritrovo dove la popolazione comunque, attraverso l'arte e la cultura, poteva ritrovarsi. E proprio per l'occasione piantò, fece piantare questo albero che è vivo, vegeto, io dico sempre che vive grazie alla magia dell'arte e del teatro, proprio come simbolo di rinascita del paese. Quindi c'è un suo significato proprio veramente profondo che comunque anche gli attori che vengono oramai lo conoscono, penso che forse sia l'unico palcoscenico italiano che ha sul palco un albero pero e devo dire la verità la maggior parte degli attori cercano di coinvolgerlo nelle loro rappresentazioni perché è veramente una cosa molto molto particolare. stiamo adesso per continuare un po' su quelle che sono le nostre attività ora stiamo facendo degli eventi estivi quindi abbiamo appena concluso una rassegna teatrale in teatro di otto spettacoli devo dire anche grazie agli sforzi che fa il comune di San Lorenzo al Mare un piccolo comune di 1500 abitanti che ha capito il valore aggiunto di un teatro in questo paese e quindi con grandi sforzi finanziano questa rassegna che direi otto spettacoli sono abbastanza per una rassegna teatrale e quindi questo è quanto è stato. L'originalità delle rappresentazioni e le riletture sembra esercitare una forte attrazione nel pubblico che resta fedele al teatro classico ma è sempre alla ricerca di novità quale tipo di spettacoli state proponendo? Sì, allora, noi abbiamo una linea un po' particolare che ci viene riconosciuta un po' in tutta la provincia perché comunque essendo uno spazio piccolo non possiamo permetterci di ospitare grandi compagnie che solitamente si presentano con dei classici e quindi che per carità sono tuttora attuali e godibilissimi. Noi avendo poco spazio abbiamo dato una linea un po' più sul monologo quindi dovendo ricorrere ad attori monologhisti oppure due, tre attori che fanno parte del cast ci rivolgiamo più su spettacoli di drammaturgia anche contemporanea scritta dagli stessi attori però senza tralasciare anche altri testi come soprattutto la sala diciamo del nostro teatro è dedicata a Beckett quindi anche parecchi testi sul teatro dell'assurdo da Aspettando Godot a finale di partita quindi facciamo anche un po' un lavoro di ricerca perché a me piace proporre attori giovani attori forse che sono sconosciuti alla maggior parte del pubblico ma che comunque sono di grande valore artistico quindi preferiamo anche una linea che si occupi del sociale delle problematiche anche attuali insomma un po' di tutto non tralasciando comunque i classici che comunque si possono fare perché abbiamo fatto Gli innamorati di Goldoni abbiamo fatto Shakespeare adesso stiamo portando in giro una commedia brillante di Alan Ekburn un drammaturgo inglese sinceramente bugiardi con cui abbiamo vinto recentemente proprio dei premi sia come miglior spettacolo sia come miglior attore come migliore attrice per la Liguria quindi abbiamo rappresentato a luglio ad un festival nazionale la regione Liguria con questo spettacolo e ad ora il 16 settembre aspetteremo i risultati anche di questo festival a livello nazionale sperando che ci porti a casa qualcosa e per quanto riguarda le nuove generazioni di spettatori come si stanno approcciando al teatro? Ecco diciamo che è un po' difficile portare i giovani a teatro nonostante noi siamo collegati con dei laboratori teatrali che si svolgono nella nostra zona è sempre difficile portare i giovani perché a volte mi chiedo questi giovani che vogliono fare questi laboratori che però non vanno a vedere gli spettacoli perché li fanno? perché amano il teatro? per solo una questione d'immagine salire su un palcoscenico? io quello che vorrei suggerire a questi giovani attori in erba che ambiscono a fare questo o di professione o anche soltanto per passione che comunque il teatro è fatica è un grosso impegno e che comunque bisogna andare a vedere gli altri bisogna andare a teatro perché se no è inutile fare laboratori teatrali che non servono a nulla se non a mettersi in mostra e il teatro non è così però noi cerchiamo di sviluppare anche un po' comunque l'amore per il teatro perché organizziamo anche laboratori teatrali che partono proprio dalle scuole primarie quindi a tanti anni noi già una decina d'anni che facciamo laboratori teatrali dedicati ai bambini e agli adolescenti proprio perché cerchiamo in qualche modo io trovo che il teatro sia molto importante dovrebbe essere proprio come materia di insegnamento nelle scuole perché aiuta in tante situazioni quindi stiamo cercando di portare un po' di giovani a teatro anche se, ripeto, è molto difficile io la ringrazio per questo viaggio all'interno del mondo del teatro con l'auspicio allora di riuscire a portare le nuove generazioni appunto all'interno di questo mondo grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi